Da quando mio marito porta Luca in piscina, ogni sera uno shampoo e i suoi capelli si stavano indebolendo. Allora ho pensato a Pantempro V. Shampoo e balsamo alla provitamina B che protegge il capello rinforzandolo. Il shampoo dopo shampoo li sente più forti, sani, a prova di Luca. Pantempro V, il trattamento per mantenere i capelli sani.